ciao a tutti luna rossa family amiche ed amici benvenuti abbiamo trovati valorosi abbonati questo è il video che sul canale arriva come dire doppio però io oggi volevo fare una lettura un po particolare quindi intanto ecco faremo questo video questo vale per tutti quindi vorrei che vedessimo un po anche a fare facendo un confronto il percorso che avete fatto tu il tuo gemello in questo 2023 e poi faremo un video dove andremo a fare delle previsioni rispetto al percorso da compiere da fare per grandi linee ovviamente perché le energie sono tante siete tanti nel 2024 stavo pensando se fare questo video solo ed esclusivamente o un po un po farlo diciamo ecco per per gli amici un po per voi e un po a parte diciamo ecco per gli amici abbonati ricordandovi sempre che gli amici abbonati fra un pochetto fra un po passano sulla piattaforma di facebook perché continueremo con il nostro percorso sul gruppo chiuso andromeda quindi chi vuole salire sul treno fa ancora in tempo in questo senso a farlo perché poi quando parte il treno parte nessuno può salire in corsa più faremo magari altri gruppi in seguito per seguire meglio anche per seguirmi meglio anche per circoscrivere dare un perimetro più definito alle energie di un gruppo rispetto ad un altro gruppo che magari questi sono più avanti gli altri sono più indietro a me ok prima di tutto qua abbiamo la divina il divino divina femminile divino maschile vediamo un po come stanno le cose andiamo a vedere il percorso che ha fatto intanto non so se lo state vedendo eccolo qua il divino maschile in questo 2000 metto a se in certi punti vi trovate e avete visto che avete lavorato bene per quanto riguarda la vostra parte maschile perché ce l'avete pure voi molto bene se vedete che siete in difetto ovviamente capite che dovete recuperare su quell'aspetto li allora 2023 mese mese di gennaio mese di gennaio ok ok no bene allora guarda il mese di gennaio sembra che sia andata un po diciamo e qua a tarallucci e vino scusate cerco di capire se bisogna accendere un'altra luce per voi no ma per me sia a dire il vero perché ci vedo poco sembra che c'era come dire ecco la frequentazione a gennaio sembra che vi frequentavate anche da prima una situazione diciamo ecco di una frequentazione che era sotto gli occhi di tutti perché questo è il 10 di denari anche direi abbastanza promettente quindi significativamente nel mese di gennaio voi stavate assieme o perlomeno a dicembre stavate assieme però a gennaio che è successo è successo che c'è stata una scelta come dire ecco di destino una scelta o tra due persone o qualcuno non si è sentito abbastanza importante non si è sentito scelto cioè io scelgo chi mi sceglie non scelgo chi non mi sceglie o chi non mi fa sentire abbastanza importante quindi questa cosa che avrebbe dovuto fare capire al gemello alla all'altra polarità praticamente ecco che era necessario un certo tipo di corteggiamento era necessario fare capire o vedere se l'altra persona come dire ecco ti mancava non ti mancava se sei tu mancava questa persona oppure no si è innescato questo tipo di meccanismo diciamo il senso di mancanza c'era perché queste sono tutte carte buone a dire il vero però qua le carte dicono che è successo una cosa guarda abbiamo 9 di denari singolitudine preoccupazioni ok sentirsi anche fragili dal punto di vista emotivo è la morte un punto c'è stato un punto e con una trasformazione la trasformazione evidentemente vi ha portato a non avere fiducia nell'altro e a scegliere di divervi la vostra singolitudine allora questo questa non scelta diciamo ecco ha dato luogo come dire che ha una separazione ha dato luogo a un imprinting un imprinting di separazione dove appunto il mancarsi può significare che proprio questo che ha innescato ha avuto questo effetto detonatore per innescare il cambiamento la trasformazione che tipo di trasformazione ok qua abbiamo nome di bastoni direi impegnativa ok qua abbiamo il falso se il falso se una falsa spiritualità una falsa morale di volere fare il professorino la maestrina della situazione il falso se quindi da questo momento in poi diciamo ecco sì si cominciano a togliere quegli strati egoici legati all'essere a forse anche devo bere un attimo allora vediamo il mese di febbraio vediamo il mese di febbraio quali cambiamenti ci sono stati rispetto alla istanza di trasformazione per cui ho detto no dice guarda anche no anche noi in un'altra vita magari in un'altra vita ok infatti il blocco mentale dice ma quando mai non ci penso proprio io voglio rimanere come sono dice vabbè anche se non mi piace però è un mi piace dove tutto sommato sono nel mio comfort la paura del cambiamento anche delle convinzioni come dire ecco che sono limitanti rispetto alla possibilità di ampliare i propri punti di vista di espandere la coscienza non so se rendo l'idea no sì sì soprattutto perché c'è una sorta di come posso dirti mentalità conformista rispetto alla società o al proprio entourage infatti si è tornati torna praticamente totalmente indietro sui propri passi per ribaltare la situazione come proprio favore dice io voglio come dire ecco preferisco la stima sociale preferisco l'approvazione una falsa approvazione una falsa approvazione sociale per sentirmi come gli altri anziché essere una persona diversa con questa coscienza appunto ampliata no ok si prende proprio l'impegno di ripare di lasciare la situazione in stallo non chiusa ma in stallo stallo nessuna niente che niente che va avanti niente che va indietro vediamo cosa succede a marzo qual è il percorso fatto a marzo a marzo ok guarda a marzo come dire ecco è come se fosse una specie di capodanno dice perché è una specie di capodanno perché è lì che è veramente è successo qualcosa nella vita di questo rispetto all'aspetto della vita del divino maschile che l'ha fatto sentire dopo magari ecco delle difficoltà dopo tutta una serie di situazioni che magari sono state di lotta ma per i fatti suoi tu non c'entri niente perché tu queste cose non le sai evidentemente anche tu se nella tua componente maschile hai vissuto tutto questo fai conto che tu queste cose non le sai questa persona si è presa una soddisfazione che come dire ecco prendersi questa soddisfazione una vittoria dopo tante peripezie che magari ecco ha passato questa soddisfazione diciamo ecco l'ha fatto sentire in qualche modo ecco gratificata e da lì si è come dire ecco installato il microchip per la nuova vita sì sì sono arrivate delle notizie notizie novità 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 perché però hanno condotto a una sorta di per quanto riguarda proprio per i due sul piano 3d a una sorta di parliamoci chiaro una specie di aggravamento rispetto alla vostra solitudine cioè al vedersi di meno magari per qualcuno a non vedersi proprio più a non incontrarsi a non sentirsi a non avere più notizie l'uno dell'altro qui inizia proprio letteralmente il totale 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 separazione ok vediamo cosa succede ad aprile abbiamo qui il diavolo ok inizia questa solitudine no una solitudine arrabbiata però una solitudine molto arrabbiata molto risentita nei confronti del gemello per la quale fondamentalmente dice ok è passato gennaio è passato febbraio è passato marzo siamo arrivati ad aprile e questa ancora io mi sento ancora legata a questa persona e quindi monta la rabbia dice però dice anche se io ci penso a questa persona voglio stare lo stesso da solo non è che mi mette in discussione in discussione non mi ci metto proprio soprattutto nei momenti già anzi questa cosa addirittura come dico scatta la fase di dice sto diventando pazzo sto diventando pazzo quasi come chi parla a casa e ti sembra che parli con questa persona come se ce l'avessi sempre vicino come se avessi una specie di possessione c'è fantasmi in casa ovviamente un po tu un po lui una sensazione di questo tipo con la consapevolezza che sta cosa non se ne va che te la porti anche avanti che ve la che se la porta anche avanti anche per il futuro dice che significa sta cosa come mai quindi sentire che c'è questa connessione quindi ad aprile scatta la connessione allora vediamo un po maggio che succede a maggio qual è stato il vostro percorso freddezza eredità distanza me ne freghismo no contact praticamente o perlomeno lì anche dove ci postero dei contatti diciamo ecco molto per i fatti propri quasi ignorandosi infatti la regina di spade siamo passati a re di spade quindi l'essere con quella severità addirittura con quella durezza un giudizio quasi nei confronti del gemello se vogliamo anche spietato di chi ha preso una decisione dice sai che c'è io ho detto deciso che si deve fare così e faccio così non me ne frega niente di sta connessione ammesso che uno riesca a razionalizzare le cose no e infatti come si giustifica questa severità con come dire con una ferita di ingiustizia la percezione di avere subito un'ingiustizia da parte del del gemello infatti quando c'è questa questa ferita questa ferita dell'anima perché di questo stiamo parlando la maschera almeno dal punto di vista sociale è proprio questa severità è proprio l'essere in qualche modo giudicanti l'essere rigidi rigidi molto 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 severi cioè non farne passare neanche una non farne passare neanche mezza cioè considerare gigantire tutto come se fosse chissà che cosa e ovviamente vediamo un po se si è lavorato su questa ferita di ingiustizia è emersa la ferita è emersa per la guarigione affinché si possa trovare l'equilibrio ok quindi in quello che è accaduto fra voi due diciamo che il divino il tuo gemello anche rispetto ad altre situazioni che vi portate nella vostra vita ha fatto ha avuto questo effetto detonatore ed è scattato diciamo ecco chiamiamolo il risanamento di questa ferita di ingiustizia legata a una severità non ci voglio avere più niente a che fare di quello che abbiamo discusso fatto detto non se ne parla proprio l'abbiamo visto questa chiusura molto forte e si rimanere però fermi sulla stessa posizione di fatto sembra sul piano 3d che non sia cambiato niente però in realtà si fanno dei dei progressi cioè si comincia a capire che determinate ingiustizie sono legate a una propria percezione proprio perché a fronte di altre situazioni vissute nella vita dice guarda su altre situazioni diciamo sono stato un po più morbido c'è pure effettivamente dice con lei forse sto empatizzando troppo le cose vediamo un po che succede a eravamo maggio questo era giugno mi pare andiamo a vedere luglio andiamo a vedere luglio giugno luglio facciamo dai una situazione sto mangiando una caramella è un po ballerina instabilità instabilità e voglia voglia di correre di muoversi nella tua direzione questo è ci stato ecco un viaggio in questa infatti ci sono anche altre persone in qualche modo coinvolto coinvolte persone che sono come dire come il cat e la volpe in questo caso una persona diciamo ecco amici amici situazioni che riguardano appunto il stare bene insieme ecco qua gli amici hanno probabilmente ecco consigliato rispetto alla voglia di questa persona di cioè è come se questa persona si fosse confrontata con degli amici avendo messo sul tavolo diciamo i suoi dubbi mettiamo no le sue perplessità e queste persone come se gli avessero detto questa persona comunque ha preso consiglio come se gli avessero detto dice ma lascia perdere guarda andiamoci a divertire dice guarda falla aspettare oppure vedi cosa fa lei intanto tu vai avanti con la tua vita vediamo cosa succede ad agosto ok ad agosto c'è un grande cambiamento finisce qualcosa cosa finisce qua abbiamo un 10 di coppe diciamo ecco si porta al si raggiunge un traguardo rispetto a una consapevolezza di determinati sentimenti legati a una persona con la quale sia un legame ufficiale quindi qua potrebbe essere l'idea che uno ha per esempio del matrimonio del partner della persona da sposare di come devono essere i rapporti dal punto di vista anche economico patrimoniale c'è qualcosa che arriva a un termine eh sì qua è come se si facessero anche in qualche modo ecco dei paragoni o potrebbe sì dei paragoni infatti questa persona comincia a vivere una sorta di conflitto interiore comincia a fare come dire ecco dei paragoni rispetto alla propria a tutto quello che è stato il suo escursus sentimentale della sua vita comincia a fare questo e comincia a fare questo esame questo così questo pomì questo in questo modo cioè si rivede tutti i bilanci entra in conflitto e soffre soffre ego una sofferenza egoica perché in qualche modo lui vuole essere più forte di quella sofferenza non sentire quel dolore e andare avanti anziché sentirsi sopraffatto va bene un'altra carta per agosto eccola qua la carta abbiamo la temperanza tutto questo serve un attimino anche per calmarsi da che cosa si deve calmare? evidentemente la delusione, la rabbia tutta una serie di ingiustizie subite sta lavorando molto c'è tanto lavoro effettivamente che sta facendo dal punto di vista di quello che è proprio il sentiment cioè la sua reattività rispetto a determinate emozioni quindi non sui sentimenti per te o sui sentimenti di amore, meno amore rispetto a qualcun altro ma sulle sue emozioni ok infatti ancora una volta entra in gioco come dire ecco il falso sé quel falso sé che dice ok effettivamente sono io che metto le persone nelle condizioni di allontanarsi da me quindi è come si prendesse la responsabilità di come dire ecco sfruttare di avere sfruttato la sua emotività per prevalere nel rapporto con te ma anche con altre persone in generale perché la struttura del falso sé che lo porta a fare così andiamo a vedere a settembre cosa ha fatto questo maschile settembre settembre qua ci sono come dire ecco nuovi confini personali rispetto a è come se vi foste visti però vi siete mantenuti a debita distanza allora lì questa cosa dell'essersi rivisti mette in crisi causa una certa crisi dice caspita sai che c'è sai che c'è però questa crisi mette come dire ecco in moto il suo orgoglio il suo orgoglio come dire ecco voglio essere superiore rispetto a certe cose non te lo faccio neanche vedere che ci sono rimasto male ok quindi qua si vede una persona che cerca di fare come dire ecco la persona splendida spende anche i soldi cerca di fa un po' la vita così del matto la vita del matto significa darsi delle possibilità darsi delle occasioni ma volare di fiore in fiore cambiare amici anche la sera cioè essere molto instabili in questo senso ma anche tutto sommato genuini con un senso di anche di ossessione il pensiero ossessivo sì è come se questa persona non riuscisse a sanare i pensieri che ha nei tuoi confronti ok quindi per non pensare affrontare la crisi va a innescare questo orgoglio e dire dici io devo fare lo splendido il fenomeno devo essere superiore a tutte queste cose però diciamo ecco comincia a fare un po' un po' di follie per guarire da questa ossessione che questa persona ha per te probabile che questa persona decide anche di allontanarsi qui abbiamo la carta del carro decide di allontanarsi di intraprendere un viaggio di cambiare probabilmente lavoro città con l'idea di migliorare la sua situazione finanziaria e ritornare probabilmente ai fasti di un tempo di un tempo cose che evidentemente sono finite rispetto a relazioni finite rispetto a una vita chissà una vita fa chissà quale vita fa forse questa persona ti deve dare anche delle cose per cui ritiene questa persona che per darti diciamo ecco in ogni caso si deve mettere in coscienza in pari rispetto a una tua generosità e questa persona non aveva la possibilità di ridarti le cose quindi questo è stato una sorta di limite dice ma se io dice per dire no c'è stato un momento anche che è arrivata a pensare se mi faccio avanti come dire no e questa persona mi dice ok va bene però prima io di ritarti fiducia anche rispetto ad un'amicizia eventualmente dice facciamoci due conti io ti ho dato questo 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 e questo possiamo per fidarmi di te vedere che tu c'è la buona volontà di rimettere le cose a posto questa persona non potendolo fare intanto ha deciso di comunque andare a guadagnare per avere eventualmente la possibilità di non farsi diciamo ecco considerare una specie di pezzente passatemi il termine e quindi non farsi considerare più che un pezzente un fallito quindi di non sentirsi in questo senso in difetto in maniera tale che si diciamo ecco può stare bene a una certa benestanza e da lì magari ecco eventualmente il rapporto si può riavviare l'idea di riavviare il rapporto va bene andiamo a vedere ottobre novembre diciamo settembre questo è partito come quando arriva la chiamata per andare a fare le supplenze ok vediamo un po' cosa c'è qui rispetto a me di ottobre cosa succede ad ottobre che tipo di percorso c'è stato dentro questa persona come vedete poi di fatto i mesi scorrono molto velocemente e i cambiamenti rispetto a tutto quello che uno può pensare può fare e può dire sono comunque importanti ma anche lenti lenti perché sono proprio sono talmente importanti per cui è anche necessario che maturino al momento giusto come per esempio un allontanamento oltre alla separazione il volere scappare anche geograficamente dal dal gemello va bene andiamo a vedere andiamo a vedere ottobre magari ecco per qualcuno può essere un mese più un mese meno ma più o meno le cose sono queste qui ottobre qui abbiamo sette di coppe abbiamo la regina di pentacoli abbiamo il tre di bastoni e abbiamo il cavaliere di spade e la torre molto arrabbiata qua abbiamo una persona con un sentiment con delle emozioni e vibrazioni basse c'è l'arrabbiatura vedi abbiamo anche ma non so una grande arrabbiatura comincia questa persona a vedere che ha seri motivi per essere veramente arrabbiato vedi qua abbiamo il diavolo il cavaliere di spade la torre è come se questa persona comprendesse che ci sono state delle figure di riferimento della propria vita quelle che avrebbero dovuto essere come dire ecco persone che gli davano una certa stabilità no qua c'è pure il tacchino mi viene in mente il thanksgiving persone verso le quali come dire ecco essere grati che invece lo hanno un po' illuso gli hanno un po' messo davanti come dire ecco tanto fumo negli occhi gli hanno un po' fatto vedere una bella auto verniciata e dentro non c'erano manche i sedili perché tanto da fuori dice appena te la compito la chiave vedi che dentro c'ha pure i sedili in pelle non c'aveva manche i sedili tipo qualcosa di questo tipo per cui cose che questa persona avrebbe dovuto vedere nel futuro magari qualcuno che invece avrebbe dovuto persino metterla in guardia ha innescato in questa persona tante illusioni cioè come se gli avesse dato una codifica del mondo illusoria la rabbia è quella lì rispetto magari a delle persone specifiche si vive un momento di crisi molto profonda ed è forse la prima volta nella vita di questa persona che comincia di questo divino maschile che comincia a dire sai che c'è mi riunisco col gemello non mi riunisco col gemello però non è neanche importante perché tanto alla fine a starmene così ci sono pure abituata ma quello che si vede adesso è che la persona è disponibile ad affrontare come dire le sue ombre i suoi demoni interiori chiamiamoli così le sue crisi le sue paturnie tutto quello che è sempre rimasto veramente nella profondità come si suol dire delle acque questa persona ha capito che la vita che aveva vissuto fino ad un certo punto era tutta come dire ecco una grandissima illusione come una grandissima messa in scena certo se l'è presa un po' con il genitore il fatto è questo magari ecco forse non conviene che dico adesso queste cose è la percezione come dire ecco che è il preludio rispetto a quella persona che si va a risvegliare e abbraccia il risveglio di questo stiamo parlando non che veramente ci sono state delle persone così pezze da piedi che si sono comportate male era necessario rispetto al progetto animico che queste persone fossero con quel taglio con quella foggia con quella cifra con quella diciamo ecco fuffologia affinché scattasse in questo divino maschile l'esigenza del risveglio altrimenti non avrebbe mai avuto l'esigenza e sarebbe vissuto sarebbe stato tutta la vita nella matrix come tanta gente ok vediamo cosa succede a novembre ok qua ci sono intanto delle novità novità rispetto a delle nuove opportunità nuove opportunità riguardo a dei progetti e la voglia di anche ricongiliarsi questa persona probabilmente fa un tentativo questa persona probabilmente capisce che è tutto partito dal tuo abbandono dal giorno in cui vi siete incontrati si capisce che tra voi due c'è qualcosa di quantomeno strano passami il termine questo se lo chiede ed entra ancora una volta in conflitto ed entra ancora una volta in conflitto perché come se lo spiega sto conflitto dice no sono malato non sto bene non sto bene sono malato veramente sta diventando una malattia questa cosa devo mettermi la testa a posto devo pensare devo tenermi occupato pensa così mi devo tenere impegnato mi devo tenere impegnato il più possibile senza pensare al passato quello che ho perso quello che ho fatto quello che ho perso è perso ok ci piango due tre giorni e basta più però vado avanti l'idea sarebbe questa qui perché probabilmente ha trovato un palo ha trovato come dire ecco o ha capito che tu stavi arrabbiata o che tu stavi arrabbiato comunque qua c'è un confine cioè come a dire c'è rimasto male c'è rimasto male e ancora il falso se no che dice caspita qua il maschile l'ha presa anche dal punto di vista della sua virilità dice ci sarà un altro che l'ha contento ci sarà qualcun altro che ha preso il mio posto dice mi ha tradito vuoi vedere che mi ha tradito tipo cose di questo tipo va bene c'è un altro c'è un altro andiamo a vedere come passiamo da novembre a dicembre allora vediamo un po' che succede qui abbiamo un imperatore quindi qua c'è come dire ecco un bambino un bambino incredibile un bambino interiore qua abbiamo il bambino interiore il bambino interiore che si sente offeso che si sente offeso nella sua nel suo ego perché il bambino è tutto egoico giustamente no in qualche modo ecco emerge la componente narcisistica quella sana e quella insana la persona si rende conto che a reagire non è più l'adulto ma il bambino prende il caos dice quello che io pensavo di essere che comandavo che sono un'autorità che sono quello che dico io si deve fare così si rende conto che è il bambino non l'adulto che vuole che per forza le cose si devono fare in quel modo lì e si sente rispetto a questa cosa impreparato dice quindi se non è così come deve essere se non è così quindi come deve essere ma questa consapevolezza attenzione per quanto si senta disorientata questa persona gli dà forza gli dà forza rafforza il suo animo perché perché non c'è più diciamo ecco uno stallo rispetto alla situazione precedente ha capito ha capito che su certe cose sente l'esigenza di sentirsi soddisfatto e deve cominciare a capire le sue emozioni effettivamente anche quello che stiamo cercando di fare noi per quella che è la nostra componente giustamente ecco maschile e ovviamente ognuno può essere un po' più maschile un po' più femminile fate un po' la quadra va bene andiamo a vedere cosa succede alla divina vediamo cosa succede alla divina adesso tu accomodati ciccio bello mettiamo qui la divina e cominciamo a parlare di lei vediamo un po' la divina potresti essere tu o in parte potrebbe essere anche un lui che fa la divina nel senso che fa diciamo un po' egocentrico chi sa giusto andiamo a vedere il percorso che ha fatto lei esce questa carta abbiamo il sole gennaio anno nuovo vita nuova anno nuovo vita nuova lei dice io voglio partire bene quest'anno non voglio partire con una palla al piede non voglio partire negativo voglio divertirmi voglio passare un anno bello quindi prende delle decisioni molto rapide lei molto frettolose probabilmente molto severe decide di fare la vedova decide dice tanto alla fine sto sola lo stesso dice guarda sai che c'è da sola valgo per mille me la passo meglio così tanto tanto è così dice se se sono rose fioriranno lei comunque con il maschile vuole rimanere in amicizia vuole che le cose vadano bene gli fa piacere ha il controllo lei sulle sue emozioni sulla sua emotività dice io non è che ci rimango male che noi come dire ecco non diventiamo per la serie marita e moglie o non andiamo a fare la luna di me dalle Maldive dice ma mi rendo conto lei è un po' più avanti mi rendo conto che questa persona fa parte della mia vita non so in che modo lo capirò è più serena in questo senso ecco lei nell'accettare questa sorta di dipendenza o codipendenza rapporto animico dice qualsiasi cosa sia fa parte della mia vita l'accetto per cui io non voglio chiudere con questa persona però voglio chiudere come dire con gli aspetti negativi e voglio iniziare bene questa cosa purtroppo non si rivela come dire con una decisione condivisa probabilmente dal divino maschile l'avevamo visto già prima e infatti qua abbiamo come dire ecco una luna che parla di cose non rivelate rispetto in modo particolare a quelli che possono essere le proprie reali intenzioni quindi le reali intenzioni vengono in qualche modo ecco camuffate e e si come dire ecco si si fa qua c'è il fenomeno si sai che c'è ma vai a quel paese cose di questo tipo allora allora vediamo un po' potrebbe anche significare che abbiamo una femminile che è veramente codipendente e che si accontenterebbe anche di fare tra virgolette l'amica la scopa amica diciamo cose di questo tipo comunque pur di soddisfare la sua componente egoica e non perdere questa persona dice guarda ci teniamo il rapporto anche nascosto senza fare brutte figure magari ecco con le persone ogni tanto ci vediamo senza più dirla a nessuno creiamo una nuova tipologia di rapporto potrebbe essere questa con questo matto sotto diciamo ecco veramente è stata come si suol dire la la best best minghiata del 2023 per dire no vediamo che succede a febbraio allora gennaio doveva iniziare bene e si è fatto un pochettino di macello vediamo un po' che succede a febbraio a febbraio qua c'è qualcuno che si sente non capito solo abbandonato dice sono rimasto col cerino in mano no però con anche la speranza come dire ecco che ci possa essere un ritorno una scelta è come dire ecco lì come qualcuno che aspetta il barco per rientrare assieme per rientrare nella relazione per rientrare diciamo in una situazione che è legata all'equilibrio di coppe anche addirittura con l'idea che possa accadere abbastanza velocemente dice vabbè ok c'è stata quella frattura come dire ecco a gennaio dice ma vuoi vedere che prima che si finisce febbraio quella situazione la sistemiamo per lo meno questa era l'idea che coltivava dentro di sé in qualche modo c'è stavano pure manifestazioni desideri eccetera eccetera però qua alla fine qualcuno ci è rimasto male le cose non sono andate così vediamo che succede come dire ecco a marzo cosa succede a marzo cosa succede a marzo abbiamo abbiamo qua una divina femminile che non è detto che sia una donna che è un po' prima donna in effetti e infatti qua abbiamo l'imperatrice abbiamo diciamo ecco come posso dirti c'è c'è un un qualcosa che ha a che fare con una giustizia e forse mi pare era uscita anche anche nella stesa del divino maschile la giustizia nello stesso mese potete anche tornare indietro ma più o meno mese più mese meno era quello lì diciamo che qui c'è una imperatrice che significa un trionfo rispetto a una situazione legata ad una giustizia questo trionfo è legato al fatto che c'è una situazione legata ad un blocco è come se si fosse presa la decisione di chiudere con determinate persone di può essere anche tu che in questo senso glielo rispecchiavi con quella freddezza con quell'indifferenza ma ben sapendo anche che quelle persone come si suol dire in effetti avrebbero dovuto essere in qualche modo importanti no sono persone importanti legate all'imperatrice possono essere che sono figli genitori familiari persone diciamo ecco magari ecco dello stesso sangue se non addirittura dello stesso rapporto animico al di là diciamo ecco del sangue fai conto che qui però non è che fosse cambiato chissà che cosa poi dal punto di vista ecco 3D ok qua ci sono anche delle responsabilità dal punto di vista ecco professionale dal punto di vista per qualcuno che è genitore questa tipologia di cose in qualche modo ecco prendono il sopravvento come se una persona dice io mi devo fare rispettare rispetto magari ecco a quello che uno fa per i genitori o per i figli sono parenti questi va bene allora vediamo un po' che succede ad aprile ad aprile c'è il desiderio forte di alleggerire un po' la mente da tutta una serie di situazioni che possono essere anche sentite come stressanti quindi ci si alleggerisce la mente ci si alleggerisce la mente e uno dice vabbè ok forse se ne è andato probabilmente come avevate visto nella stessa precedente c'era qualcuno che veramente probabilmente si era allontanato anche fisicamente però questa cosa è vissuta con non era quello che volevo non era quello che voleva il pensiero di rimanerci male non era quello che voleva non era quello che voleva già partire da gennaio però questo serve anche a rafforzarsi anche a farsi in qualche modo ecco a rafforzare il rapporto animico tutto sommato che comincia ad essere non dico costruttivo ma diciamo ecco faticoso certamente ecco faticoso qua ci mette lo zampino come si suol dire anche il divino che vi dà una bella lezione che tipo di lezione arriva alla divina ecco qua arriva il carro diciamo ecco di essere meno precipitosa rispetto alla propria erruenza rispetto a quando vuole essere o diciamo ecco non sa frenare di destino quindi questo potrebbe essere anche un aspetto caratteriale diciamo la propria aggressività pensare male parlare male c'è uno che si gira proprio malamente di essere un po' così allora va bene andiamo a vedere che succede a maggio che succede a maggio dice queste sono le conseguenze come dire ecco la lezione del fatto che non so mettere un freno alla lingua se non avessi detto se non avessi fatto se devo pensare molto bene prima delle di dire le parole sì ok qui abbiamo dei conflitti il mettersi in competizione con la voglia di emergere ma anche il paragonarsi lì dove c'è un'altra persona se magari ecco il vostro gemello è una persona nella sua vita o aveva una persona nella sua vita il paragonarsi il paragonare a vecchie relazioni paragonare succede un po' la stessa cosa per entrambi a dire la verità ma io dove ho imparato a fare in questa maniera ad essere una persona così litigiosa dove l'ho imparato chi me l'ha insegnata chi me l'ha data questa struttura torna la stessa regina di pentacoli che avevamo visto nella stessa precedente per entrambi può essere anche la mamma per dire comunque uno dei due genitori un ex padre ma se più probabilmente è con la famiglia di origine un personaggio in questo senso caregiver tutto sommato si decide di aspettare andiamo a vedere mesi estivi giugno luglio un po' cosa c'è qui ok beh direi che giugno e luglio sono dei mesi legati ad una certa stabilità mi viene da dire per qualcuno può darsi che ci sia stata diciamo una un qualcosa legato ad una sistemazione familiare si sono sistemate delle cose legate che so a chi doveva prendere una casa chi doveva affittare una casa chi doveva comprare una casa per avere come dire in questo senso una certa solidità probabile che per qualcuno si sono si sono fatti passi importanti proprio letteralmente diciamo collegati a delle questioni patrimoniali qui abbiamo diciamo il confemminile che fondamentalmente vuole come dire ecco che si riprendano certi discorsi nella sua vita con la sua famiglia d'origine rispetto ad una certa stabilità si prendono in considerazione queste cose si riprendono certi argomenti si chiede una certa collaborazione si chiede in questo senso che si veda questo atteggiamento collaborativo cose che si devono fare o nei confronti dei figli o nei confronti dei genitori che sono diciamo ecco delle dimostrazioni ecco di affetto delle dimostrazioni di cure necessarie lì dove ripeto sono cose importanti che ha bisogno sia il bambino che l'adulto a dire la verità quindi sono cose importanti ci sono come dire ecco anche dei cordoni ombelicali in questo senso che sono un pochettino tossici con le famiglie di origine allora vediamo un po' come finisce con questo mese di agosto come si conclude questa estate per la divina cosa fa la divina ok la divina l'estate diciamo la vive molto bene direi molto bene anche se in certi momenti ci sono incertezze alti e bassi soprattutto dal punto di vista sentimentale sono questi alti e questi bassi perché vorrebbe come dire ecco vedere dei segni vorrebbe vedere delle cose lei si impegna ce la sta mettendo tutta per qualcuno significa diciamo ecco darsi anima e corpo al lavoro ad essere totalmente corrazionale però come si suol dire al cuore non si comanda diciamo ecco proprio per non entrare in questo conflitto rispetto alla mente al cuore abbiamo un femminile che decide di come dire assecondare sia i pensieri che le emozioni e di impegnarsi in questo senso di tenersi molto 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 impegnata questo tenersi molto impegnata capite bene che è un modo per alienarsi ok andiamo al mese di settembre questo mese di settembre direi non è male direi sembra un ottimo mese di settembre è come se lei si fosse messa in qualche modo il cuore in pace ma allo stesso tempo si è messa il cuore in pace rispetto che non è cambiato proprio niente sono passati mesi sono successe tante cose e tante cose non sono successe rispetto al proprio gemello fatto sta che lei sente di vivere come una versione sua totalmente originale di amore incondizionato ma è una sua versione di amore incondizionato attenzione in realtà non è cambiato proprio niente però lei si rende conto che essere fermi su quella persona in qualche modo significa che se probabilmente c'è qualcosa che le sfugge da un punto di vista logico razionale e le vuole tentare di capire dice ok sai che c'è affronterò nuove nuove cose affronterò le mie ombre affronterò le mie paure cercherò di cambiare io se c'è qualcosa da cambiare e quindi probabilmente inizia a fare cose corsi probabilmente inizia a fare qualcosa più o meno è lo stesso periodo di entrambi che c'è questa sorta di non dico risveglio ma la presa di coscienza che quella persona comunque presente o assente della tua vita fa parte e ti ha dato degli input ti ha dato degli stimoli quindi cos'è dice questa crisi mi è utile capitalizzo questa crisi capitalizzo questa cosa che mi è successa anche se mi ha in qualche modo ecco fatto stare male adesso che mi sento diciamo ecco almeno mentalmente diciamo meno sfasata cerco di capire le mie emozioni cerco di capire di più me stessa cerco di capire non solo le mie emozioni ma anche il mio sentimento con tutto che comunque sono da sola se è destino sarà c'è qualcuno che nei commenti spesso mi scrive ma adesso non mi ricordo la frase precisa però come se fosse predestinata questa cosa se sarà così si realizzerà è più o meno l'idea che c'è qui vediamo come si conclude questo anno per la nostra divina femminile che ha deciso di impegnarsi e di viversi tutto quello che sente dentro allora guarda lei si sente comunque in questo senso solida si sente solida amorevole con le idee chiare come partita e finite in un certo senso abbiamo ancora una volta la regina di bastoni diciamo ecco è come se fosse la versione migliorata della femminile che c'era l'anno scorso vi ricordate come era partita a gennaio dice si ok però stavolta lei vuole corteggiare non vuole rimanere amica vuole costruire vorrebbe anche riuscirci a conquistare il proprio gemello o ad andare nella direzione di una riunione oppure dice guarda oppure forse vi sembrerà anche troppo oppure niente io devo semplicemente considerare che ho sbagliato tutta la mia vita anche questo dice ho vissuto una vita di illusione ho sbagliato tutto quanto nella mia vita quindi non so come finirà non so come cambierà però in qualche modo io già mi sento finita se non riesco ad andare in quella direzione diciamo ecco ho bisogno di sentirmi completa insieme a quella persona quindi abbiamo un femminile che vuole andare fortemente ecco verso la riunione fortissimamente ecco verso la riunione non è che va a inseguire il maschile non sta facendo la chaser l'inseguitrice diciamo ecco è lì dov'è sta inseguendo se stessa adesso se insegue vuole inseguire se stessa abbiamo contemporaneamente diciamo ecco uno sbilanciamento se si può dire ecco di ruoli legati ai generi così come le intende letteralmente la matrix se vogliamo dire così questi sono aspetti effettivamente che si devono bilanciare perché abbiamo un femminile che non riconosce il maschile e un maschile che non riconosce il femminile in se stesse nell'altro c'è molto lavoro da fare va bene andiamo a vedere adesso nello specifico la situazione più più vicina più vicina a noi come stanno le cose vediamo cosa sta facendo il tuo gemello come se la sta pensando testa mente cuore nei tuoi confronti come stanno le cose riprendiamo qua il lui questa volta non è divino maschile se tu sei una donna ovviamente sarebbe un uomo se tu sei un uomo sarebbe una donna oppure due uomini o due donne tranquillamente non ho nessun problema allora semplicemente perché comunque in ogni caso c'è un maschile o un femminile anche in due uomini e anche in due donne allora vediamo un po' la prossima volta magari la facciamo con i colori perché sennò sembra che in qualche modo vada a fare un po' di di come dire sai quelle cose oggi quando si chiama tutto un po' di shaming uno va a fare diciamo ecco delle discriminazioni non è mia intenzione allora piano piano ci abitueremo a parlare in maniera diversa però il mio sentito per quanto il mio linguaggio non sia totalmente appropriato anche visivamente è che io a parte con i colori non saprei come rappresentarvelo a dire la verità sarebbe buono rappresentarlo come fanno gli orientali con lo yin e lo yang e faremo così allora andiamo a vedere il tuo gemello testa cuore azioni vorrei ma non posso vuole fare delle azioni concrete vuole fare molto 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 insicuro molto molto indeciso assolutamente sì diciamo avrebbe bisogno di qualcuno che gli collabora che gli fa quasi da palo in questo senso o gli possa insegnare come risolvere questa situazione con te a dire il vero ha bisogno di un aiuto questa persona sente di avere bisogno di un aiuto in concreto vorrebbe ripeto ma parte sperare di incontrarti di vederti di di avere come dire in questo senso la possibilità di ripristinare anche la giustizia probabilmente insiste anche un certo senso di colpa di magari se lì per lì ha attribuito tante cose sbagliate a te adesso è come se avesse soppesato bene le cose non dicendo è tutto sbagliato di là ed è tutto giusto di qua ma c'è del giusto anche lì e c'è del giusto anche da me c'è dello sbagliato lì e c'è dello sbagliato anche in me in questo senso la giustizia fai conto che nella mente questa persona vorrebbe riprendere la relazione con te te lo dico molto tranquillamente non parlo di riunione non parlo di situazioni come dire animiche ma vorrebbe proprio prendere avere l'opportunità come dire di di mettersi in discussione anche iniziando una nuova relazione con te nuova senza passato però in un certo senso lo pensa lo sente anche ma poi si blocca ma poi dice io non so come fare ecco che infatti poi si rende anche conto che da solo non ce la può fare avrebbe bisogno di una collaborazione o persone proprio che fanno parte del vostro entourage oppure di poterti incontrare di avere una certa fortuna o qualcosa che capita diciamo così a caso no il suo cuore il suo cuore direi che diciamo ecco è un po' preso da tante emozioni quindi ci sono tante cose nelle coppe ci sono cose belle e cose brutte come emozioni e come sentimenti però fai conto che quello che tu stai vedendo del tuo gemello tu lo sai soprattutto se stai facendo il percorso insieme a me con gli abbonati continueremo a farlo ecco sulla piattaforma di facebook andromeda nel gruppo chiuso stiamo vedendo che effettivamente cosa ti deve rispecchiare il tuo gemello tutta una serie di emozioni le coppe sono le emozioni qua abbiamo il sette di coppe significa tante tante cose davanti a sé processare le emozioni questa persona ha bisogno di processare le emozioni e si sente bloccata ora servirebbe proprio proprio questo avere la chiave per processare queste emozioni per dare l'avvio veramente a questa nuova creatura divina anche sul piano 3d se così si può dire direi che per chi sta lavorando state lavorando assolutissimamente ecco molto ma molto ma molto ma molto ma molto bene vediamo un po' cosa ti dicono le carte per questa settimana ci fermiamo così quindi ci prendiamo anche una pausa in questo senso che è natalizia non me ne do compiti per casa per questa settimana però qualcosina magari ecco l'aggiungo per gli abbonati leggero perché ovviamente ognuno ha i propri impegni familiari in questo periodo no allora vediamo un po' qual è l'ostacolo in questo momento tra te il tuo gemello l'ostacolo percepito l'ostacolo reale e cosa promuove la tua vita sentimentale o la possibile riunione col tuo gemello vediamo un po' questo come piccolo lavorino che potete fare allora l'ostacolo percepito l'ostacolo reale e cosa può promuovere allora guarda interessantissimo ciò che arriva con questi miei emblemi anzi per chi fosse interessato si vuole fare il regalo di Natale o del nuovo anno il link ai miei mazzi di carte lo trovate nel box dell'infero nel primo commento in evidenza allora guarda l'ostacolo percepito da te sicuramente da te è che questa persona ha bisogno di stare in forma io non so se tu come dire ecco sei totalmente in forma ma c'è la percezione di aspetti proprio della propria salute che devono essere sanati quindi che ti posso dire una persona anche chi ha come dire qualche insoddisfazione perenne da molto tempo ecco nella vita può scivolare un pochettino in una certa depressione e andare quasi come a cercare una sorta di appiglio in qualche tipo di 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 dipendenza come ti posso dire in qualche atteggiamento che può essere lavorare troppo l'abbiamo visto per il femminile adesso non mi ricordo se è il femminile o il maschile quello alienarsi nel tenersi impegnati quindi questo alienarsi nel tenerti impegnati in qualcosa magari è proprio quello che va a compromettere la salubrità della tua vita non è la salute semplicemente che tu hai che ti posso dire la gastrite oppure hai qualche dipendenza qualche problema mentale non lo so ci sarà un problema legato a qualcosa che si fa nella propria vita che non è salubre questo è l'ostacolo percepito rispetto sicuramente ce l'hai tu ma tu lo vedi nel tuo partner ma il fatto che tu lo vedi nel tuo chiamiamolo tra virgolette partner animico è che tu lo debba vedere in te stessa che c'è qualcosa di poco salubre nella tua vita nel tuo gemello lo vedi ovviamente moltiplicato all'ennesima potenza come qualcosa di insopportabile perché se era tollerabile ovviamente non te lo poteva rispecchiare in maniera tale che tu lo potessi vedere ecco perché deve per forza esagerare per aprirti gli occhi è come quando tu leggi nel Vangelo che c'è il cieco della piscina di adesso non mi ricordo di dove e Gesù va a mettere del fango negli occhi di questo cieco tanto gliene mette fango fango saliva fango e saliva che questo qua praticamente appena si toglie il fango dagli occhi ci vede ed era cieco quindi quel metterti quel fango negli occhi rispetto a questa persona che tu la vedi con una vita poco salubre per esempio cosa potrebbe essere una vita poco salubre che magari tu sai per esempio che è in un matrimone infelice per dire no e tu dici ma questo cioè con me sta così bene sia contenta di avere una vita così mediocre con una persona che non ama no e quindi tu vedi ma questo non ti fa bene alla salute no ecco può darsi che tu proprio debba vedere quella cosa lì per capire che c'è qualcosa invece di poco salubre nella tua o nel tuo meccanismo delle tue relazioni familiari che non significa necessariamente con il tuo rispettivo partner 3D se sei sposato o sposata capirai tu di che cosa si tratta ma è quello di l'ostacolo che tu percepisci ma non è quello reale quello reale è legato alle insidie cos'è l'insidia diciamo qualcosa è appena nato e già deve far fronte a insidie difficoltà trappole significa che tutte le volte che ci avete provato tutte le volte che ci provate tutte le volte che vi siete illusi o tu ti sei illusa o illuso che stavate iniziando il rapporto paf ti è cascato tutto davanti come quando come quando diciamo ecco tu aspetti come dire ecco quella bellissima statuina di ladro per dire no finalmente te la porta a babbo natale la prendi in mano ti scivola e si rompe così e tu ci rimani proprio malissimo no una cosa di questo tipo le insidie le insidie ci sono delle difficoltà di tanti tipi rispetto a questo rapporto sono tante le cose che insidiano questa relazione questo rapporto questa riunione questa possibilità di stare assieme quindi è come se oggi provate a stare assieme perché un ostacolo ci siete riusciti a superarlo domani ne arriva un altro domani ne arriva un altro ancora ne arriveranno tanti perché perché tutto dovete bruciare tutto voi per questa riunione tutto va bruciato voi che li chiamate fiamme e però siccome ragionate con una mentalità 3D voi pensate che nel bruciare quelle cose cioè anzi non pensate che state bruciando quelle cose anzi gli date ossigeno ancora di più a quelle cose senza bruciarle quindi andandole ad avvalorare dicendo no vabbè tanto me lo dimenticherò no vabbè allora non è la persona giusta no vabbè io che devo lavorare tutto il mondo va così perché io dovrei essere uno che si deve risvegliare fammi capire di che cosa mi devo risvegliare sono sveglissima vediamo un po' cos'è che può aiutare la tua situazione con questa persona il successo il riconoscimento l'apprezzamento ecco la stima il trionfo il traguardo cioè comincia ad apprezzare questa persona in maniera diretta e indiretta gli effetti positivi che hai avuto sulla tua vita fino ad oggi proprio prendi il tuo diarietto i miei amici ecco che fanno il percorso con gli abbonati sostenitori del canale sanno esattamente a che cosa mi riferisco quindi prendi nota di tutte le cose per cui in qualche modo ecco sei grata o grato o devi riconoscere che il tuo gemello ti ha dato in questo senso ecco il turbo ti ha messo quel fango negli occhi cominciare a riconoscere queste cose è importante perché sono quelle lì che ti faranno apparire la strada davanti a te non solo per la tua vita ma anche per la tua riunione va bene va bene amici io per oggi vi lascio così ci vediamo per un prossimo video ecosettimanale che riguarda quel percorso animico e ogni giorno per un nuovo appuntamento un bacione a chi non dispiace lasciatemi un like e aspetto di leggere nei commenti il tutto come vi risuona per chi non è iscritto iscrivetevi al canale a presto tantissimi auguri ciao ciao